A questa sala si controlla tutto il processo produttivo L'ISPLAN presenta Non è vero che mettendo lamiera, mettendo cotto, facendo il tetto piano abbiamo le stesse prestazioni Le prestazioni cambiano molto e le abbiamo dimostrato grazie ai finanziamenti europei Vediamo vari tipi di colori perché ogni miscela è stata studiata appositamente per ottenere le caratteristiche cromatiche di colore, di resistenza al gel o di impermeabilità per arrivare al prodotto finito come è stato progettato Ci troviamo qui a Possanio a presentare la nostra azienda che è un'azienda industrie Cotto Possanio che è presente e che è attiva come formula societaria dal 1999 quindi sono praticamente 20 anni ma deriva da una unione, da una fusione delle precedenti aziende che lavorano sul territorio da più di 200 anni Tutto il processo produttivo delle fornaci, pur avendo una tradizione antichissima, è tutto automatizzato L'operatore interviene soltanto quando per qualche motivo la macchina si ferma E il collegamento appunto che avevamo voluto creare anche a favore vostro di chi viene a visitare quelle nostre zone è il collegamento con il Tempio di Possanio, opera dello scultore Antonio Canova che è conosciuto in tutto il mondo Quindi anche noi siamo, credetemi, un po' artisti non come il nostro grande illustre cittadino ma anche noi parliamo le lingue Vi presento i prodotti di industrie Cotto Possanio prodotti che proprio per mission aziendale devono essere sostenibili, performanti, di alta qualità ma con una gamma infinita per ricordare le tradizioni di tutte le regioni italiane ma sottolineiamo la parte di sostenibilità che vuol dire capacità della terra cotta di durare nel tempo la capacità della terra cotta di essere riparata cosa vuol dire? Rompo un coppo perché succede qualcosa? è facilmente sganciabile e lo cambio non serve che rifaccio il tetto che butto via tutto è dura tantissimo grazie a una ricerca europea abbiamo realizzato un prodotto incredibile con la capacità di avere una doppia ventilazione sotto la cornice e sotto il prodotto quindi con un'alta ventilazione tengo bassa la temperatura e aumento il rendimento delle celle Possanio è un paese piccolo perché sono meno di 2000 abitanti noi siamo una realtà che ha circa 200 dipendenti è un prodotto classico il nostro le coperture in cotto di cui siamo leader in Italia è un prodotto classico però che richiama anche degli elementi di modernità il prodotto in cotto garantisce un calore all'abitazione nel rispetto della tradizione grazie a questi labirinti realizzati con lo studio della galleria del vento pensate un semplice prodotto realizzato con la galleria del vento quando vale poco pesa tanto eppure riesce a dare una prestazione nei secoli fissa e per sempre ha una riflettanza vicino a uno cosa significa che io quando interseco i raggi del sole durante la stagione estiva riesco a rimandarli verso l'infinito per la maggior parte si scalda poco la mia superficie riesce a ridurre l'isolamento necessario per avere un comfort estivo e a parità di isolamento riesco a ridurre fino al 50% del mio consumo per l'aria condizionata qui abbiamo il controllo del suono che è visibile di tutti i prodotti uno per uno proprio per garantire la massima qualità ma soprattutto vediamo il nuovo marchio AeroTile che è quella tegola performante e sostenibile che è stata realizzata grazie al contributo europeo nello stesso tempo abbiamo certificato EPD Environment Law Declaration la nostra tegola grazie naturalmente ai finanziamenti europei ma per essere trasparenti nelle risorse trasparenti nel ciclo di vita trasparenti nel riutilizzo ecco perché l'industria cotto possagno nell'economia circolare si sente bene si sente a proprio agio perché basta soltanto far vedere cosa stiamo facendo e come lo stiamo facendo la rigida di Possagno pensate la portiamo in tutta Italia ma anche all'estero in ben 40 stati le nostre tegola sono presenti con successo da anni l'ISPLAN vi ha presentato alla ricerca delle eccellenze del Veneto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti